Che fare? La Chiesa è in grande difficoltà. La gente non crede più alla nostra santa milione. Gli scantali ci stanno traforzendo. Il sacerdotio che trofebbe essere santo e immaculato appara agli occhi del mondo lasciifo e corrotto. Ogni giorno un altro sacerdote viene arrestato per abusi su minori. La gente non ci guarda con sotticismo e diffidenza. Siamo minacciati dal decadere dei costumi, dal ateismo, dal relativismo etico. I sacri dogmi fengono quotidianamente irrisci e contestati. Sendo a arrivare a mettere in dubbio la stessa verità della fede. Oh, grandi tei dell'Olimpo, e tanto che non finca qua giù a disturbarvi, vi imploro. Accettate questo sacrificio di calina e tornate a darmi il vostro aiuto. «Tu mi nervi, teo della sapienza, concedimi il lume della tua saccezza e indicami la strada. E tu, Marte, teo della guerra, fai a pezzi i miei nemici, atei e blasfemi. E tu, cupito, smetti di scagliare, fece fa uomo e uomo. Oh, antichi tei, vi abbiamo coperto per due mila anni dietro a questo monoteismo di facciata, lasciandovi in pace come d'accordo senza più preoccuparti di noi poveri mortali. Ma adesso, umilmente, fin ploro, tornate per un giorno al vostro posto di comando e tatemi una mano. Eolo, che casino che hai fatto in Giappone!